5 hanno confermato ancora una volta che la tua maggioranza politica si conosce più. Io non condivido, ma come sto a comprensere, tra i giorni, il collega Santano quando dice, no, 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 no. Non mi piace come, non mi puoi dire di offenderti su certe situazioni, tanto le... Consigliere, oggi di nuovo al Consiglio come è giusto che... Oggi tu hai partecipato, ancora prima di questo dibattito politico, ancora prima di conoscere la situazione della maggioranza, che hai partecipato alla riunione di maturanza. Tutti, in questo modo, stai andando a dire il trattelamento della vita. Allora, tu mi chiedi a me, che cosa significa questo? Interesse della città. Non lo comprivo, per favore. Per dire, al senatore Capito, che sta così dibattendo. Su che cosa... In braccio, per favore. È davvero in grado, in grado. Il fatto di essere dedicato, per favore di hallucinare la mia identità. No, ma poi... Un intervento di nessuno, siete tutti... In generale... In grado di accenni amorosi, per lei, per lei è una città concretana. potremmo comprensere che cosa è così, perché dall'azienda della carta di identità a dire che è stato onorato, di far persi con te, in una competizione elettorale, cioè basta tanto, non lo comprendo, non lo comprendo, non lo comprendo, ma dalla scuola fisica di persecuzione dei latini, che se non lo comprendo, non lo comprendo, non lo comprendo, ma dalla scuola fisica di mercolio, in quanto ci dà nulla, non lo comprendo in tutti e non c'è la motesia, a dire non di voi, di me lo giuro, di un contattamento, attraverso il meu madre, la pelle verso te, di una testa, lei a questo punto si dice a prendere, che hanno un criterio di consiglio che non è appasato aggiuntare attraverso parte di un'ostia, che a lei in questo caso, che a lei suggerisce a un senatore di evitare l'intervento, è una misura di opportunità, ma nel rispetto di quest'altro, stesso rispetto ai cittadini, perché potremo in realtà, il problema è che sarà proprio il ragazzo, ma è possibile per cittadini da una stanza. O mai che il suo problema è che in Italia, il rispetto è che il rispetto di noi, il rispetto di noi, la vado di più, anche un po' di meno della vado di più, e il rispetto di noi, la vado di più, è finita con la tua maggioranza politica, ora, tu e me lo direi, oggi vuoi compri il consiglio di una posizione, e mi compri attraverso l'ordine politica, attraverso l'ordine note, attraverso il consulente, attraverso un'ordine note, che non ti servisce, oggi prendi in mano la situazione, e finisci la mia esperienza politica, e vai di conseguenza, compri di conseguenza, giocchi, per cui tutte le valgate, è finita la tua maggioranza politica, grazie, 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 allora, grazie,